salmo 4 la preghiera del giusto ecco la preghiera del giusto qui abbiamo ancora un salmo dove c'è l'ammonimento ai nemici di dio e dei buoni in questo salmo abbiamo come testo alcuni frammenti leggiamo quando ti invoco rispondimi dio mia giustizia dall'angoscia mi hai liberato pietà di me ascolta la mia preghiera fino a quando o uomini sarete duri di cuore risplenda su di noi signore la luce del tuo volto e via va avanti cioè da un inizio di prostrazione di angoscia la fiducia che il giusto sarà liberato da dio sarà aiutato sarà rafforzato allora ecco ancora ritorna il salmista prostrato nella terra di terra addirittura uomo di terra nella terra davanti al monte di dio tutto luminoso tutto giallo tutto d'oro quasi e a lato uomini di terra inclinati che insidiano il salmista perciò quando ti invoco rispondimi signore mia giustizia dalle angosce mi hai liberato e con la luce di dio la speranza del salmista viene posta nella luce di dio come speranza di salvezza e di aiuto qui abbiamo ancora una versione del salmo 4 preghiera del giusto fra i malvagi e quel giusto steso a terra prostrato e i malvagi che con dei bastoni lo insidiano in mano lo circondano il monte oreb il grande monte di dio con tutta la nuve dove dove dio parlava nell'antico testamento è presente a confortare il nostro salmista ecco continuiamo e abbiamo il salmo 5 invocazione mattutina ecco qui l'invocazione mattutina è un'invocazione a dio che protegge i giusti e castiga gli empi al mattino ascolta la mia voce fino al mattino ti invoco e sto in attesa tu non sei un dio che si compiace del male tu detesti chi fa il male ma io per la tua grande misericordia entrerò nella tua casa mi prostrerò con timore nel tuo santo tempio signore guidami eccetera eccetera cioè anche qua fa vedere l'invocazione mattutina del salmista il salmista è questa figura bianca che si alza dopo la notte sta passando arriva l'alba fresca col verde dell'alba del mattino fresco la frescura del mattino la coscienza che la nella nuova giornata avremo ancora coloro che queste figurine stese a terra che insidiano che insidiano ma nonostante questa il rosso della sofferenza nella preghiera del salmista porgi l'orecchio signore alle mie parole intendi il mio lamento ecco il rosso ecco il giallo lo illumina il salmista si eleva dritto in piedi con quasi assorbito nella notte nella frescura del mattino invocazione mattutina continuiamo e abbiamo il salmo 6 supplica d'un infermo supplica di un infermo questo è un salmo penitenziale con la quale si invoca la misericordia divina per il sentimento della condizione dell'uomo peccatore perciò il testo dice pietà di me signore vengo meno risanami signore tremano le mie ossa l'anima mia è tutta sconvolta ma tu signore fino a quando chi negli inferi canta le tue lodi sono stremato dai lunghi lamenti i miei occhi si consumano nel dolore il signore ascolta la voce del mio pianto il signore ascolta la mia sublica il signore accoglie la mia preghiera allora la prima fase tutta una lamentazione penitenziale della propria miseria e la seconda la speranza e la fiducia che il signore ascolti questa preghiera di anelito e di sofferenza allora il salmista è prostrato in questo caso a terra nella terra schiacciato da una barra rossa insidiato ai piedi e alla testa da figurine di uomini che poi si ripetono nella parte alta e diventano ancora più angoscianti nel nero qua come nelle tenebre uomini tenebrosi che mi ricordano il mio peccato la mia colpa il suo lamento ma nello stesso tempo a questa sofferenza che si staglia su un orizzonte di montagne rocciose e di luce di tramonto traspare il giallo della luce di dio la speranza e la fiducia che non sarà abbandonato continuiamo e abbiamo qua il salmo 7 il salmo 7 è la preghiera del calugnato è un salmo dove si cerca di calugniare il salmista in questo caso in questo delle calugnie contro david da parte di alcuni uomini di saul comunque nonostante questo noi ci riportiamo al testo lamento che davide risvolse al signore e signore mio dio in temi rifugio salvami e liberami da chi mi perseguita signore mio dio se così ho agito se c'è iniquità nelle mie mani se ho ripagato il mio amico con il male se ha torto ho spogliato i miei avversari e il nemico minse che mi il nemico minsegue mi raggiunga calpesti a terra la mia vita e trascini nella polvere il mio onore poni fine al male degli impi rafforza l'uomo retto la mia difesa è nel signore e gli salva i retti di cuore ecco l'empio produce ingiustizia concepisce malizia partorisce menzogna e gli scava un pozzo profondo e cade nella forza che ha fatto cioè dalla calunnia dall'angoscia dalla paura a la coscienza che dio non permette il male perché dio è un dio giusto un dio giudice è un dio di verità allora prima abbiamo una grande angoscia tutto una totalità di oscurità nella quale abbiamo un piccolo salmista azzurro e bianco qua prostrato insidiato in una in un dolore enorme di questo rosso fuoco insidiato da tantissimi uomini alcuni piegati alcuni insidiosi alcuni in ginocchio tutti prostrati in questo ambiente angosciante in questo specie di di inferno di dolore no ma è la preghiera del salmista si eleva nella fiducia nella coscienza che dio ascolta la voce del caluniato la luce di dio interviene dall'alto con questo bianco questa luce giallo biancastra con una direzione di potenza verso il salmista ecco vedete come il linguaggio pittorico può aiutare alla sintesi poetica come forma di preghiera essenziale poi abbiamo il salmotto il salmotto è il canto è un canto di di gloria e il salmotto gloria di dio e dignità dell'uomo oh signore nostro dio quanto grande il tuo nome su tutta la terra sopra i cieli si innalza la tua magnificenza con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza per ridurre al silenzio nemici e ribelli se guardo il cielo opera delle tue dita la luna e le stelle che tu hai fissate che cos'è l'uomo perché tu te ne ricordi il figlio dell'uomo perché tu te ne curi eppure l'hai fatto poco meno degli angeli di gloria e di onore lo hai coronato gli hai dato potere sulle opere delle tue mani tutto è posto sotto i suoi piedi è un bellissimo salmo oh signore nostro dio quanto è grande il tuo nome su tutta la terra è un bellissimo salmo di contemplazione che parte dalla osservazione della grandezza del cielo del creato per arrivare alla grandezza di dio che ha dato all'uomo questa figliolanza e questo amore infinito e di superiorità alle cose create da dio stesso ecco qua allora l'immagine dei grandi cieli che narrano la gloria di dio ecco passiamo al salmo 9 e 10 salmo 9 e 10 momento di afflizione e momento di speranza e di fiducia nell'azione di dio abbi pietà di me signore vedi la mia miseria opera dei miei nemici tu che mi strappi dalle soglie della morte perché possa annunziare le tue rodi esaltare per la tua salvezza alle porte della città di Sion perché il povero non sarà dimenticato la speranza degli afflitti non resterà delusa cioè abbiamo una serie di manifestazioni di sofferenza e di domanda da parte del salmista verso dio angoscia e preghiera vengono portate avanti con una ripetizione costante che porta avanti tutto il salmo 9 e poi nel salmo 10 abbiamo infierisce di colpo sull'oppresso cadono gli infelici sotto la sua violenza egli pensa dio dimentica nasconde il volto non vede più nulla sorgi signore alza la tua mano non dimenticare i miseri perché l'empio disprezza dio e pensa non ne che non ne tenerà conto tu accogli signore il desiderio dei miseri rafforzi i loro cuori porgi l'orecchio per la tua giustizia all'orfano e all'oppresso e non incuta per più il terrore dell'uomo fatto di terra allora qui vediamo l'agitarsi dell'uomo provato prostrato calunniato e che perde la fede e la speranza che poi dopo ritorna a riportare tutta questa sua angoscia nella fede nella fiducia in dio dicendo non sia così potente il il male ma tuo dio che sei la verità e la luce vieni il mio soccorso e salvami e sicuramente c'è anche la 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 il finale dove tu accogli il signore il desiderio dei miseri rafforzi il loro cuore porgi l'orecchio cioè la sicurezza che dio non abbandona il povero no perciò dio triunfatori sugli impi allora il salmo è molto complesso perché è 9 e 10 è articolato in due fasi molto lunghe e perciò noi abbiamo alla prima parte i calunniatori coloro che fanno le cose nelle tenebre senza senza temere la giudizia di dio la giustizia di dio la prostrazione nella sofferenza del salmista che da da salmista bianco diventa sofferente rosso in questa macchia rossa di figura sofferente poi la tenebra cioè l'apparenza l'apparenza della della dell'ingiustizia che trionfano ma la luce sta al bordo della campitura e poi viene giù come una colonna di luce la speranza finale la sicurezza più che una speranza la sicurezza che dio non abbandona il misero dio non abbandona il suo popolo dio non abbandona le figure bianche positive che hanno fede nella sua verità e questa luce cade dall'alto come una pioggia di purificazione una luce di un celeste che che divide in due la tenebra anche se la tenebra aveva questa presenza di luminari come preghiera forma di preghiera nella tenebra del salmista continuiamo e vediamo il salmo salmo 11 la fiducia in dio salmo 11 anche qua noi abbiamo un salmo dove se noi leggiamo con i passaggi il signor nel signore mi sono rifugiato come potrete dirmi fuggi come un passero verso il monte ecco gli empi tendono l'arco aggiustano la freccia sulla corda per colpire nel buio i retti di cuore ma il signore nel tempio santo il signore ha il trono nei cieli i suoi occhi sono aperti sul mondo il signore scruta giusti ed empi ed egli ama chi odia la violenza farà perire e farà piovere e farà piovere e fuoco e zolfo vento bruciante toccherà in sorte agli empi il giusto è il giusto è il signore eccetera eccetera anche qua la fiducia in dio passa da un'analisi dell'irrisione da parte dei peccatori verso il salmista verso il fede verso il lorante no fuggi come un passero verso il monte il signore nel signore mi sono rifugiato lui dice come potrete accusarmi di essere uno che scappa davanti al male e poi dopo questi dubbi e queste ansi lui parla e dice ma guardate che il signore scruta i giusti e gli empi e sa tutto allora questo salmo è realizzato con una dimensione di la figura del salmista come un qualcosa che fugge verso lo spazio di luce la natura e la luce e il salmista l'angoscia degli empi che creano come una barriera una massa di tenebra di abisso di acqua violenta che divide il salmista che viene accusato di fuggire davanti al male fuggire e rifugiarsi nella preghiera e di qua l'uomo nella natura verde ritorna alla figura del salmista in piedi ritto che è cosciente che nonostante l'apparenza lui ha la fiducia in dio non è come colui che fugge nella preghiera ma attraverso la preghiera lui deposita la sua pace la sua speranza nella natura nella contemplazione del cielo in dio creatore che è presente grazie a tutti Grazie a tutti.